proviamo a calcolare 39,1 meno 0,794 e così metti in pausa il video e provaci da solo va bene penso che ci abbia provato adesso proviamo a farlo insieme lasciamolo riscrivere è 39,1 meno lasciami bene incolonnare i decimali per rapporto alla virgola meno 0 0 è nel posto delle unità quindi lo metto nel posto delle unità 0,794 e ora siamo pronti a sottrarre ora ma come facciamo a sottrarre 4 dal niente e 9 dal niente ma la stessa cosa di niente è 0 e così ora possiamo pensare a come fare la sottrazione bene stiamo cercando di sottrarre 4 dallo 0 e 9 da 0 quello che possiamo fare è prendere questo un decimo e provare a prestarlo ai centesimi e ai millesimi pensiamoci ma questo davvero non risolve davvero il problema perché ci ritroviamo con 0 decimi allora andiamo invece al posto delle unità allora lasciami eliminare un'unità così che sono 8 unità che sono 10 decimi e quindi da questa parte diventano 11 decimi ora prendiamo uno di questi decimi così che rimaniamo con 10 decimi e diamolo ai centesimi così che sarà 10 centesimi e poi prendiamo uno di questi centesimi rimaniamo con 9 centesimi e diamolo ai millesimi ottenendo 10 millesimi ora siamo pronti a sottrarre allora 10 uso il giallo 10 meno 4 e 6 9 meno 9 0 10 meno 7 e 3 adesso c'è la virgola 8 meno 0 è 8 e poi abbiamo 3 meno 0 che sono 3 ci siamo riusciti sono 38 virgola 3 0 6 6 6 9 9 10 9